Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi location non abituale, visto che post serie A ho fatto un salto a Verona per venire a trovare la mia ragazza, quindi non sono a casa. Però è uscito il team 2 dei Foot Fantasy e le carte che ci hanno tirato fuori non sono niente male, quindi come al solito andiamo a fare questa preview insieme. E il primo giocatore che ci troviamo è proprio Dembélé, il dottorino nella sua versione 92, per l'appunto che rispetto alla carta Rule Breaker ovviamente rimane 5-5 ma prende un più 9 di velocità, un più 4 di tiro, un più 7 passaggio, 5 dribbling, 12 di fisico e 4 di difesa. E questo qua raga, onestamente, è un cartone sensazionale, però io penso che non lo riusciremo a guardare neanche minimamente da lontano considerando quanto è andato Maxi Man e visti gli upgrade facili che può prendere sto Dembélé che da quando è tornato il suo compagno di merende Obama Young al Barcellona e quindi giocano insieme. Insomma, ha ripreso anche a viaggiare e quindi mi aspetto veramente un prezzo esorbitante per questa carta visto che è anche attaccante, quindi è facilmente imbridabile all'interno delle squadre, soprattutto con Icon, De Jong eccetera eccetera. Quindi assolutamente top, sull'esterno è una carta che viaggia da paura, ma da paura sarà anche il costo, quindi vediamo se riusciremo a provarlo in qualche modo. Secondo giocatore invece è Filippo Coutinho, anche questa carta abbastanza interessante che rispetto alla sua versione 88 prende più 4 velocità, più 5 tiro, più 4 passaggio, 6 dribbling, 5 di difesa e 5 di fisico. Interessante anche perché diventa di Premier League essendo arrivato all'Aston Villa dove è anche un po' rinato, anche lui possibilità di upgrade abbastanza percorribili, molto rapido, agilissimo, dotato anche di un discreto tiro, gran passaggi. Me lo immagino trequartista, me lo posso immaginare anche seconda punta se verifichiamo la finalizzazione visto il 5 di skill appunto in un'attacca a due, me lo immagino esterno con lo speed boost. E anche questo qua è assolutamente top tra le carte migliori uscite in questa seconda release. Stessa cosa magari qualcuno di voi potrebbe pensare di questo Martial, in realtà Martial lo abbiamo già visto nella sua versione 88 e rispetto a questa ha un più 4 di velocità, più 4 di tiro, più 3 passaggio, 2 dribbling, 3 difesa, 3 fisico. E' un 4-4 ed è un giocatore che abbiamo già visto avere delle stats estremamente fake nella versione appunto uscita un po' di tempo fa. Molto molto pesante, finalizzazione da rivedere, un classico giocatore che se lo guardi così sembra che lo puoi piazzare ovunque, regge Roger di The Family Guy, però in realtà poi è poca roba, quindi costerà anche tanto, onestamente mi sento di schipparlo perché non ne varrà la pena. Andiamo invece su Gabriel Martinelli, questo giocatore che sembrava un predestinato negli ultimi periodi, magari ha un pelino rallentato, 4-4 rispetto alla versione 84 prende più 4 velocità, 8 tiro, 7 passaggio, 12 di fisico, 4 dribbling e 4 difesa. Quindi grandi upgrade soprattutto in tiro fisico e passaggio. Molto veloce, dotato anche di una discreta finalizzazione, passaggi un po' così e così. Body type che secondo me è un po' il problema di questa carta perché a dispetto dell'in, quando poi si tratta di doverlo andare a sentire effettivamente pad alla mano, sembra un po' pesantuccio. Però le stats per poterlo provare da esterno ci sono, quindi se il prezzo non è, insomma, di quelli inaccessibili, io un try a questo giocatore qua lo darei. Così come ci voleva anche un po' di freschezza, no, per una Serie A soprattutto sull'out di sinistra, e arriva Alex Sandro che ritorna un po' ai fastidi ai FIFA passati. Rispetto alla carta 83 prende più 11 di velocità, 5 tiro, 9 passaggio, 5 dribbling, 8 difesa e 6 di fisico. È un 3-3, questo palla al piede sarà peggio di Teo probabilmente, però a livello di velocità ci siamo. Ha un discreto passaggio corto, ha delle ottime stats difensive, quindi può essere anche magari un'idea per poter linkare un difensore di Serie A e poi magari lui e Neymar piazzato come esterno-sinistro. Può essere un'alternativa sfiziosa ai vari terzini che abbiamo imparato a conoscere. Jonathan Bamba, proprio lui, il giocatore più ambiguo di FIFA. Rispetto alla carta 86 è più 4 di velocità, più 7 tiro, 3 passaggio, 3 dribbling, 3 difesa, 17 di fisico. E onestamente questo non mi sembra un grosso bene, visto che ha già il body type average, gli hanno pompato pure la forza e onestamente io non ho apprezzato nessuna delle sue versioni precedenti. Sì, sull'esterno è molto molto rapido, però non c'è manco la quinta di skill, non ha questo grande speed boost bruciante. Lo tratterei con le pinze, ecco. Poi c'è il gran ritorno di Musassi Soko, il giocatore di cui non avevamo bisogno, ma ce l'hanno propinato anche quest'anno. Rispetto alla versione base si becca più 12 di velocità, più 12 di passaggio, più 19 dribbling, 8 difesa, 11 di fisico per il giocatore che va nuovamente a ricordarci gli incubi che abbiamo passato negli anni precedenti. Pecca un po' in accelerazione, pecca un po' in agilità ed equilibrio, però onestamente poi il resto delle stats sono veramente OP. Io credo che il prezzo andrà alto considerando l'hype che si porta dietro sto giocatore e considerate anche quelle che sono le alternative attuali, non so quanto possa valere la pena andare a investire su questo Sissoko. Pedro invece va a rimpolpare lì sulla destra un reparto dove in Serie A ci sono dei giocatori ma forse non buoni come questo Pedro. Ricorderete già la versione 86 che era veramente ottima e rispetto a questo abbiamo 4 di velocità in più, 4 di tiro, 3 passaggio, 5 dribbling, 2 difesa e 9 di fisico. C'è anche 5 di piede debole, un ottimo body type, bello speed boost, hanno aumentato anche la velocità scatto che passa 82, 99 di accelerazione, ottimi passaggi, molto agile, pecca un po' nei reactions, però onestamente io l'ho provato, non ho la vecchia versione, non ci ho trovato questo grande problema. Short e lean il body type, quindi ottimo, assolutamente da provare. Ennesima versione speciale anche per Youssef Atal, l'ennesimo, l'ennesimo Atal degli ultimi anni. Insomma, rispetto alla carta 85 gli upgrade sono veramente limitati, era buono quello, sarà buono pure questo, magari soprattutto qualora dovesse prendere degli upgrade potrebbe essere veramente definitivo, poterlo piazzare ovunque, mezzala, esterno, terzino, dove vi pare, veramente questa Atal fa bene tutto. Giovanni Lo Celso è invece il prossimo giocatore rispetto alla versione 81, la novità più grande che gioca in Liga, più 7 velocità, 7 tiro, 5 passaggio, 4 dribbling, 6 difese e 7 di fisico. Abbiamo un giocatore che onestamente, visti quelli che sono attualmente i suoi competitors, insomma, non è che mi fa proprio dire, cavolo, ho bisogno di questo giocatore per forza nella mia squadra, quindi anche lui probabilmente lo lascerei lì. Sempre per rimanere in tema fantasia, abbiamo una versione speciale di Rodrigo, che giustamente ci mancava, 9 velocità, 9 tiro, 10 di passaggio, 11 di dribbling, 14 di fisico in più, 4 skill e 3 di piede debole, e già questo, insomma, parla per questo Rodrigo. Non eccelle nulla, non ha le skill, non ha il piede debole, costerà anche poco, visto il price range, pace all'anima di Rodrigo. In capie è un lennesimo difensore di Bundesliga molto veloce, Simil Klosterman, anche lui non credo che ve lo regaleranno, anche se addirittura un 2-2, però le stati difensive ci sono, l'ingressività, la forza, anche ottimi passaggi, certo è di una nezzualità abbastanza difficile l'Equador e il campionato Bundesliga, quindi sarà da vedere, però magari si potrebbe dare anche un try. Vertonghen si becca un bel upgrade, soprattutto in velocità, un più 8, belga del campionato portoghese, faccio fatica a immaginare un Vertonghen titolare, così come sto Sirius, sì, molto simpatico per il meme, ma difficile che becchi upgrade utili alla causa, vista la presenza di Mignanne e Chesney in Serie A, che sono sicuramente molto più validi. E chiudiamo invece con Perisic, nella sua versione 89 SBC, sì, dei ottimi upgrade, il problema grossissimo di questo Perisic è il suo body type high-grade average. Si può provare sull'esterno, però onestamente risulterà sicuramente non esplosivo come un Leao, per dirne uno. È vero che dalla sua ha il 5 di skill di piede debole, però sappiamo che sulla fascia è meglio il 5 di skill piuttosto che il piede debole. Non ce lo vedo tantissimo da seconda punta, nonostante abbia comunque 95 potenza tiro e finalizzazione. Toccherà vedere, ma anche con l'86 di forza mi spaventa e non poco. Quindi raga, per questo video è tutto, fatemi sapere voi nei commenti cosa pensate di questi giocatori. Vi ricordo che tornerò in live da lunedì, che andiamo poi anche a vedere questi giocatori come si comportano. A me non resta altro che salutarvi, un bacione dal vostro Liberoschi. Ciao!